il voto dell'altro giorno in provincia per quanto concerne l'approvazione del bilancio da parte di due consiglieri di forza italia si somma a quanto avviene nel comune di taranto con il consigliere abate che da fervido oppositore della giunta melucci è finito col diventare invece il primo sostenitore della stessa tutto questo chiamasi trasformismo il nostro paese ha una lunghissima tradizione sotto questo punto di vista i nostri padri costituenti hanno introdotto il meccanismo per il quale non ci sia un vincolo di mandato nel momento in cui si viene eletto nelle assemblee legislative lo fecero perché l'italia veniva fuori dal periodo fascista e non introducendo il vincolo di mandato si voleva lasciare liberi gli eletti di poter operare all'interno delle assemblee senza dover essere coartati come invece avvenne durante il periodo fascista ma oggi non siamo più alla mantenimento meno del vincolo di mandato il trasformismo che si è registrato in questi giorni nelle ultime settimane nella città di taranto per esempio segna l'assenza di un'identità la mancanza di una visione una sorta di appuntamento mancato con l'etica perché questi consiglieri agiscono secondo quello che il proprio interesse personale e quindi nell'ambito di una legislatura tradiscono il mandato elettorale ricevuto e si alleano ora con questo ora con quell'altro soltanto perché animati dal perseguimento di propri obiettivi che nulla hanno a che fare con la cosa pubblica e questo dato questo elemento certifica quello che viene definito da molti studiosi la fine della democrazia o la post democrazia come si suol definirla per l'appunto non lamentiamoci del fatto che sempre meno persone si recchino a votare non lamentiamoci del fatto che i problemi nelle nostre comunità si incancreniscono invece che portarsi a soluzione perché quando in una data realtà e in un dato tempo avanzano pratiche come queste significa che è venuto meno il rapporto che alla base di una democrazia cioè quello tra eletti ed elettori a taranto le pratiche di queste ultime settimane testimoniano appunto questo stato di fatto e quindi